ciao a tutti e bentornati sul mio canale nel tutorial di oggi vi presento questa mia creazione la collana girasole come sapete di recente ho pubblicato il tutorial di un anello fatto sempre col fiore di girasole vi metto comunque il link sotto nelle descrizioni e così ho pensato che come abbinamento fosse una bella idea realizzare una collana io la trovo bellissima soprattutto da portare in primavera estate sarà perché a me il colore giallo piace tantissimo può essere comunque anche una bella idea regalo allora come vedete la collana al centro ha il fiore e poi sui lati ho realizzato questi dischetti che nel mio caso ho messo quattro dischetti due per ogni lato alternando i colori voi comunque potete metterne anche 3 4 di dischetti per lato dipende poi dalla lunghezza che farete la vostra collana la mia collana misura 30 centimetri sono poi andata a unire i dischetti tra di loro con delle catenelle e la collana finale l'ho fatta con dei punti puff adesso andiamo a vedere cosa ci occorre per realizzarla allora abbiamo bisogno del filato giallo e marrone allora il marco il marrone faremo a parte i dischetti l'interno del nostro fiore io però per farvi vedere l'interno del fiore non vado a usare il colore marrone ma bensì un altro colore perché il marrone veramente in telecamera si vede malissimo abbiamo bisogno dell'uncinetto nel mio caso il numero 3 di una forbice un pezzetto di filo a colore contrasto che ci farà da marca punti un ago da lana e un po' di imbottitura acrilica inizieremo appunto con l'interno del fiore voi prendete il vostro colore marrone io vado a prendere questo colore celeste e realizzare intanto un anello magico lo fisso con una catenella e all'interno dell'anello andiamo a fare sei punti bassi 1 2 3 4 5 e 6 tiriamo il filo così l'anello si chiude in questo secondo giro andremo a fare solo aumenti aumento significa che faremo due punti nello stesso punto ci procuriamo il marca punti che ci indica ogni volta che inizia un nuovo giro ci lavoriamo anche la codina adesso entriamo nel primo punto che abbiamo realizzato aspettate che avvicino un po' la telecamera andiamo a fare un punto basso e nello stesso punto un secondo punto basso nel prossimo punto anche qui due punti bassi 1 e 2 nel punto successivo due punti bassi 1 e 2 faremo due punti in ogni punto disponibile e alla fine ci troviamo con 12 punti terminato il giro spostiamo il marca punti e in questo terzo giro andremo a fare un punto basso singolo e nel punto successivo l'aumento un punto basso singolo e nel punto successivo un aumento e questo per tutto il giro per cui entriamo nel primo punto e facciamo un punto basso nel punto successivo l'aumento due punti nello stesso punto poi di nuovo un punto basso singolo e l'aumento dopo due punti nello stesso punto faremo un punto basso e un aumento un punto basso un aumento per tutto il giro e alla fine ci troviamo con 18 punti iniziamo giro numero 4 e qua facciamo due punti bassi e nella terza l'aumento per cui entriamo nel primo punto e facciamo un punto nel secondo punto facciamo un punto e nel terzo punto l'aumento poi di nuovo due punti bassi singoli 1 2 e nel terzo punto l'aumento faremo due punti bassi e un aumento per tutto il giro e alla fine ci troviamo con 24 maglie iniziamo il prossimo giro e qui faremo solo le maglie come si presentano senza fare nessun tipo di aumento lavoreremo un punto sopra ogni punto del giro sottostante per tutto il giro e ci fermiamo alla penultima maglia e poi ci rivediamo allora lavorato la penultima maglia abbiamo qua ancora l'ultima maglia noi adesso allunghiamo l'asola tagliamo il filo andiamo a fare un'asola di chiusura così il lavoro è molto più pulito sfidiamo il filo andiamo a procurarci l'ago da lana e poi allora qua abbiamo lavorato la penultima maglia qua abbiamo l'ultima maglia questa la saltiamo andiamo qua dove abbiamo il marca punti nella prima maglia dell'inizio del giro possiamo togliere il marca punti entriamo in questa maglia in tutte e due le asole facciamo passare ago e filo e poi qua abbiamo l'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato che era la penultima maglia entriamo nella costina dietro del punto facciamo passare anche qui ago e filo e tiriamo bene così abbiamo fatto un'asola e il lavoro come potete vedere è molto più pulito adesso dietro andiamo a fare un nodino e nascondere il filo in qualche maglia e possiamo poi tagliare questo filo adesso abbiamo realizzato il primo dischetto chiaramente ne abbiamo bisogno di due andiamo a fare lo stesso identico lavoro anche come chiusura e poi ci rivediamo quando abbiamo terminato il secondo dischetto allora terminati i nostri due dischetti che come potete vedere io nel frattempo sono tornata al mio colore originale abbiamo 24 punti su un dischetto e 24 punti sull'altro dischetto andiamo a mettere rovescio sul rovescio il dritto guarda verso di noi entriamo in un punto qualsiasi in tutte e due le asole del primo dischetto e nel punto di fronte dell'altro dischetto prendendo anche qua le due asole del punto adesso andiamo a prendere il colore giallo lo facciamo passare e andiamo a fare una catenella nel prossimo punto libero andiamo a fare il nostro primo petalo prendiamo il filo sull'uncinetto entriamo nel prossimo punto libero di questo dischetto chiaramente anche del punto di fronte del dischetto dietro e andiamo a fare un punto alto poi sempre nel stesso punto andiamo a fare un punto alto doppio prendiamo due volte il filo sull'uncinetto entriamo nel punto di tutti i due dischetti peschiamo il filo abbiamo quattro asole sull'uncinetto prendiamo il filo passiamo prima attraverso le prime due asole restano tre asole sull'uncinetto passiamo poi attraverso le prossime due e poi attraverso le ultime due adesso abbiamo fatto un punto alto un punto alto doppio due catenelle una, due e andiamo a fare un punto picot entrando nelle due asole sotto le due catenelle che abbiamo realizzato e andiamo a fare un punto bassissimo adesso torniamo indietro lavorando sempre ancora nello stesso punto facendo prima il punto alto doppio e poi il punto alto normale andiamo nel prossimo punto libero sia sul dischetto davanti che chiaramente sempre sul dischetto dietro e quindi andiamo a fare un punto bassissimo e abbiamo così terminato il nostro primo petalo filo sull'uncinetto andiamo nel prossimo punto disponibile chiaramente sempre su un dischetto e sul dischetto di fronte e qui andiamo a ripetere prima il punto alto poi il punto alto doppio le due catenelle una, due entriamo nelle asole che troviamo sotto le due catenelle andiamo a fare un punto picot e poi torniamo indietro facciamo il punto alto doppio e il punto alto normale e poi entriamo nel prossimo punto disponibile e andiamo a fare un punto bassissimo e anche il secondo petalo è pronto filo sull'uncinetto entriamo nel prossimo punto libero chiaramente sempre in tutti i due dischetti e qua ripetiamo di nuovo il punto alto il punto alto doppio le due catenelle facciamo il punto picot entrando nelle due asole sotto le due catenelle facendo un punto bassissimo e poi torniamo indietro prima la maglia alta doppia e poi la maglia alta normale nel prossimo punto libero andiamo a fare un punto bassissimo e pronto anche il terzo petalo adesso andiamo a fare questo lavoro fino a un po' più della metà dove ci fermiamo perché andiamo a mettere un pochetto di imbottitura allora arrivati un po' più della metà andiamo a allungare un attimo l'asola prendiamo un po' di imbottitura da mettere all'interno del fiorellino non troppo giusto da gonfiarlo un attimino e quando abbiamo riempito a sufficienza andiamo a riprendere l'ago e terminare il lavoro realizzando i nostri petali allora terminato l'ultimo petalo i petali devono essere 12 chiudiamo il nostro fiore entrando qua nel primo punto dove siamo partiti e abbiamo realizzato la catenella entriamo e andiamo a fare un punto bassissimo facciamo una catenella aggiuntiva tiriamo un po' il filo allunghiamo l'asola e tagliamo il filo adesso qua dietro abbiamo questi due fili uno quello dell'inizio e della fine andiamo a fare un nodino con questi due fili poi prendiamo l'ago e andiamo a nasconderli all'interno del lavoro e all'interno delle maglie cerchiamo di far passare il filo giallo attraverso i petali così non si nota il colore tagliamo poi questo filo e la stessa cosa la andremo a fare anche con l'altro filo ed ecco qua che abbiamo terminato il nostro fiore adesso andiamo ad occuparci dei dischetti i dischetti sono fatti molto semplicemente andiamo a prendere io ve lo faccio vedere col colore giallo andiamo a prendere il colore giallo andiamo a fare un anello magico una catenella e all'interno i nostri famosi sei punti bassi uno due tre quattro cinque e sei tiriamo il filo si chiude l'anello andiamo a prenderci il nostro marca punti in questo primo giro faremo solo aumenti significa che in ogni punto faremo due punti per cui entriamo nel primo punto ci lavoriamo sempre anche le codine così poi alla fine del lavoro non serve che nascondiamo tanti fili entriamo nel primo punto e andiamo a fare il nostro aumento due punti nello stesso punto due punti anche nel prossimo punto faremo due punti bassi in ogni punto e alla fine ci troviamo con 12 punti terminato il giro spostiamo il marca punti e nel prossimo giro andremo a fare un punto basso singolo e un aumento un punto basso singolo e un aumento e questo per tutto il giro entro nel primo punto faccio il mio primo punto nel punto successivo l'aumento poi di nuovo un punto basso singolo e nel punto successivo l'aumento faremo questo per tutto il giro e alla fine ci troviamo con 18 punti adesso nei prossimi due giri andremo a lavorare i punti come si presentano senza fare più nessun tipo di aumento faremo un punto sopra ogni punto del giro sottostante i punti sono 18 andiamo a fare due giri di 18 punti terminati i nostri due giri andiamo a spostare il marca punti e in questo prossimo giro andremo a fare delle diminuzioni faremo un punto basso e una diminuzione per tutto il giro per cui entriamo nel primo punto e facciamo un punto basso singolo poi entriamo nella costina davanti del prossimo punto nella costina davanti del punto dopo prendiamo il filo passiamo attraverso queste due costine e poi facciamo il punto basso poi di nuovo nel prossimo punto un punto basso e poi di nuovo la diminuzione le due costine davanti dei prossimi due punti facciamo passare il filo attraverso le costine e poi il punto basso di nuovo un punto basso singolo e poi la diminuzione costina davanti di un punto costina davanti del prossimo punto passiamo attraverso le costine e punto basso adesso andremo a fare un punto basso e una diminuzione per tutto il giro terminato il giro allunghiamo leggermente l'asola possiamo togliere un attimo il marca punti perché andiamo a mettere un po' di imbottitura all'interno del nostro dischetto non troppa possiamo anche aiutarci con l'uncinetto poi riprendiamo il filo sull'uncinetto andiamo a fare il prossimo giro mettiamo anche il marca punti e qui andremo a fare solo diminuzioni una diminuzione dopo l'altro per cui entriamo nelle due asole davanti dei prossimi due punti e facciamo la diminuzione nelle prossime due asole dei prossimi due punti sempre prendendo l'asolina davanti e la diminuzione e questo lo faremo per tutto il giro terminato il giro eliminiamo il nostro marca punti andiamo nel prossimo punto libero facciamo un punto bassissimo allunghiamo l'asola tagliamo il filo e poi andiamo a cucire gli ultimi sei punti con l'ago da lana entriamo nell'asola davanti di ogni punto i punti sono sei due tre quattro cinque e sei poi tiriamo il filo si chiude il nostro buchetto che era rimasto poi andiamo a nascondere questo filo all'interno del dischetto e poi tagliare il filo adesso noi abbiamo realizzato il fiore e nel mio caso quattro dischetti perché io metterò due dischetti a lato chiaramente se voi volete la collana più lunga farete più dischetti allora prendiamo il nostro fiore e se vi ricordate tra un petalo e l'altro petalo abbiamo fatto sempre un punto bassissimo entriamo con l'uncinetto proprio lì dove abbiamo fatto il punto bassissimo peschiamo il filo e lo facciamo passare e lo fissiamo intanto con una catenella adesso io tra il fiore e il primo dischetto e tra un dischetto e il prossimo dischetto sono andata a fare 7 catenelle se voi volete avere la distanza diciamo più lunga metterete più catenelle allora io vado a fare le mie 7 catenelle una l'avevo già fatta 2 3 4 5 6 e 7 vado a prendere un dischetto e qua al centro del dischetto entro in un punto prendo tutto il punto vado a fare passare il filo prima attraverso il dischetto e poi attraverso l'asola che è rimasta sull'uncinetto una catenella allunghiamo l'asola e tagliamo il filo poi prendiamo l'ago da lana e andiamo a nascondere questo filo prima passiamo per fissare bene il lavoro qua nell'ultima catenella e poi entriamo all'interno del corpo del dischetto e magari rientriamo una seconda volta e poi possiamo tagliare il filo e abbiamo così unito il primo dischetto adesso andiamo a di fronte dove abbiamo agganciato il filo del dischetto sul dischetto diciamo di fronte e anche qui entriamo in un punto sempre in mezzo al disco vado a riprendermi il filo giallo lo vado a riagganciare e vado a fare 7 catenelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 adesso io vado a prendermi il mio dischetto marrone e qua andremo a fare la stessa cosa andiamo qua al centro del dischetto entriamo nel punto facciamo passare il filo prima attraverso il dischetto e poi attraverso l'ultima catenella una catenella di sicurezza allunghiamo l'asola tagliamo il filo e andiamo a nascondere anche questo filo all'interno del disco passando sull'ultima diciamo di andiamo all'interno dell'ultima catenella e poi nel corpo del dischetto facciamo passare due volte il filo e poi lo tagliamo adesso io ho terminato perché come ho detto io metto solo due dischetti per lato e adesso vado a iniziare il mio cordoncino che andremo a fare con dei punti puff per cui andiamo sempre di fronte qua abbiamo terminato abbiamo agganciato il filo andiamo di fronte entriamo sempre in un punto riprendiamo il colore giallo facciamo passare il filo e adesso vado a fare prima due catenelle una, due poi tengo il filo qua sulla seconda catenella e ne realizzo altre tre una, due e tre prendo il filo sull'uncinetto entro nella prima delle tre catenelle che abbiamo realizzato entriamo peschiamo il filo allunghiamo e lasciamo sull'uncinetto e abbiamo fatto il primo gettato prendo il filo rientro nello stesso punto pesco il filo allungo il filo e lascio sull'uncinetto e abbiamo fatto il secondo gettato prendo il filo sull'uncinetto rientro pesco il filo lo allungo adesso abbiamo fatto tre gettati prendo il filo passo attraverso tutte le asole che ho sull'uncinetto e poi faccio due catenelle dopo le due catenelle di nuovo tre catenelle una, due, tre filo sull'uncinetto entro nella prima catenella delle tre e ripeto i miei tre gettati uno due e tre poi passo attraverso tutti questi gettati e due catenelle adesso io di questi bottoncini chiamiamoli così con questi punti puff sono andati a farne quattordici che mi danno la possibilità giustamente di passare attraverso la testa anche perché io non volevo una colana troppo lunga chiaramente se voi volete la colana più lunga andrete a fare più di questi bottoncini chiamiamoli così magari ogni tanto provate vela addosso per vedere la lunghezza intanto andiamo a fare questo lavoro e poi ci vediamo allora io adesso ho raggiunto la lunghezza che desidero avere per cui quando avete fatto l'ultimo punto puff andate a fare due catenelle una due e poi andate a prendere il prossimo dischetto e qui andiamo a fare la stessa identica cosa entriamo al centro del dischetto in un punto facciamo passare prima attraverso il dischetto poi attraverso l'ultima asola che abbiamo sull'uncinetto catenella allunghiamo tagliamo il filo poi chiaramente andremo a nascondere tutti i fili e poi andiamo di nuovo di fronte entriamo anche qui nel punto riprendiamo il punto il colore giallo scusate andiamo a fare le nostre sette catenelle una due tre quattro cinque sei e sette prendiamo l'altro dischetto rientriamo nel punto in mezzo al dischetto facciamo passare il filo attraverso dischetto e asola catenella allunghiamo l'asola tagliamo di nuovo il filo poi andiamo qua di fronte entriamo andiamo a fare passare di nuovo il filo giallo le sette catenelle una due tre quattro cinque sei e sette e poi chiudiamo il lavoro allora qua abbiamo agganciato il filo contiamo una due tre quattro petali entriamo dopo il quarto petalo sempre dove abbiamo fatto il punto bassissimo e andiamo a fare anche qui un punto bassissimo una catenella aggiuntiva allunghiamo l'asola e tagliamo il filo adesso andremo a nascondere tutti questi fili con ago e quando avrete nascosto tutti i fili ecco pronto qua la nostra carinissima collana io la trovo molto bella molto graziosa che potete abbinare appunto con l'anello che trovate già il tutorial sul mio canale io spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un like abbonatevi al mio canale e ci vediamo al prossimo tutorial